Che bisogna di? Boh, non lo so, la situazione è drammatica perché è pieno di rifiuti ovunque. Una brutta cartolina della Toscana, qui siamo a Monte San Savino, comune della Valdichiana, a Rettina, rifiuti sparsi nel centro storico, cestini che straboccano. No, qui da noi non siamo mai visti una situazione del genere, e ora è vergognoso, ma è così, che devo dire? Il personale di Sei Toscana, lavoratori interinali, non passano ormai da cinque giorni. Diciamo che si è cominciato a parlare di questa problematica da sabato, e da lunedì si è cominciato a vedere veramente i risultati, con un servizio ridotto e con molti passaggi, sia nel centro storico, sia nel territorio, che sono mancati. Il comune, assieme agli altri comuni dell'Aur Valdichiana, ha così avviato una richiesta di procedimento sanzionatorio nei confronti di Sei, e si riserva anche di effettuare denuncia presso la procura per interruzione di pubblico servizio. Nel frattempo ha affidato ad una cooperativa il servizio di raccolta. Riteniamo che nell'espletamento di un servizio pubblico non si possa pensare di continuare ad andare avanti con contratti interinali, specialmente perché alla fine i rifiuti si producono, si producono sempre, e quindi non credo che queste persone possano andare avanti con un contratto ogni cinque mesi rinnovato. C'è una partecipazione pubblica e soprattutto svolge un servizio pubblico, quindi sarebbe anche opportuno che fossero i primi a dare il buon esempio, anche per le altre ditte. Noi come comune attualmente abbiamo anche dato un incarico a una cooperativa per dare una mano in questa fase, la Colap, per poter raccogliere almeno in parte i rifiuti che sono stati lasciati sul territorio e quelli nel centro storico. Detto questo, il prossimo passaggio è fare in modo che la SEI rimetta in piedi il servizio al più presto per garantire il normale svolgimento della raccolta.